Sono in ottima compagnia direi, Valeria Marini, insomma hai assistito... Grazie, è stata una bellissima partita, un grande Chieti, meritava di vincere. Li meritava di vincere però? Sì, sì, meritava di vincere, ha sfiorato il gol diverse volte, soprattutto nel secondo tempo è andato ancora più forte. E vabbè, tanto comunque si vedranno questi risultati. Senti Valeria, tu sei sempre molto avvezza alle tante emozioni che può regalare il mondo dello spettacolo, eccetera. Le emozioni del calcio. Ah, mi piace tanto, proprio tanto, il calcio mi piace. Mi è sempre piaciuto. Ho sempre tifato l'Italia, adesso tifo anche Chieti. E poi la cosa bella è che ci sono tante famiglie qui all'Angelino. Sì, bello, c'è un tifo meraviglioso, cioè proprio veramente fortissimo, una tifoseria stellare. Come la tua canzone. Arriverò lontano, sì sì. Perfetto, grazie. Arriverò in alto. Grazie di cuore a Valeria Marini. Grazie stellari.